ciao a tutti e benvenuti su life love tv oggi parliamo della carota per quanto riguarda le proprietà nutritive la carota si configura come vera e propria miniera di minerali contiene ferro calcio magnesio rame e zinco ma non solo la carota apporta provitamina a carotenoidi vitamina b e vitamina c tra tutti i vegetali rappresenta la fonte più ricca di beta carotene trasformato in vitamina a dall'organismo in caso di bisogno la radice fresca di carota può essere utilizzata anche per il decotto in questo modo può esplicare proprietà diuretiche e despettoranti per contrastare tosse e raucedine invece sostituendo i semi della carota alla radice fresca si può ottenere un decotto che favorisce la corretta digestione la carota potrebbe essere d'aiuto nella regolarizzazione delle funzionalità intestinali e nello svolgere un'azione lenitiva per l'apparato digerente alla carota sono legate anche altre proprietà potrebbe essere sfruttata per le sue capacità diuretiche e carminative per alleggerire disturbi come calcoli cistiti e problemi urinari il passato di carote è impiegato come rimedio per le diarree in particolar modo per i bambini e con questo è tutto vi ringrazio per avermi ascoltato iscrivetevi tanti baci ciao 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 ciao